Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Preview Lavellino. Si appresta ad ospitare il Ladispoli per una nuova puntata di questo campionato, il Diario della Rinascita. È così che lo abbiamo chiamato. Di questo e di tanto altro parleremo oggi con un ospite speciale, Giosuè Peluso, il Divino. Ave Maria, pieno di grazie, giustamente. Oggi sì, cercheremo magari di fare un bel inizio del 2019 con le cose che andremo a vedere. Speriamo che ci rialziamo subito. Speriamo bene. La prima buona notizia, Giosuè, che ti ho riportato al partenio. Intorno a te rivediamo il partenio che è stata la tua casa per tanto tempo. Mi hai confessato che stai cercando di riprenderti da quel che è successo quest'estate con grossa difficoltà come tutti noi e come tutti i sostenitori del lupo. Ma ti fa sempre un certo effetto rientrare qui a quella che è stata casa tua per tanto tempo. Mamma mia, dopo quattro anni continui, venire qua mi viene un po' di nostalgia. Perché poi è vero quello che tu hai detto, parola sacrosante, quando segui sempre Lavellino, per radio, grazie a Sport Channel, va senza dire. Però essere lì, diciamo, non da protagonista, da collaboratore, per gli spettatori e quant'altro, e poi ritrovarti a vedere Lavellino in Serie D è realmente una brutta botta. È un colpo al cuore. Stiamo cercando di riprenderci, come dicevo in avvio, Giuseppe, noi abbiamo chiamato il diario della rinascita, proprio perché passo dopo passo cercheremo di riprenderci i campionati che contano, lo dobbiamo fare a piccoli passi, cominciando il girone di ritorno nel migliore dei modi, ricominciando a portare la vittoria al Partenio Lombardi già da domani, quando si incontrerà, Lavellino ospiterà al Partenio Lombardi il Ladispoli. Non sarà una partita di cartello, nel senso che sulla carta, ma solo sulla carta, come ha sottolineato in conferenza stampa anche Giovanni Bucaro, questa è una partita che Lavellino è chiamata a vincere, ma anche a non sottovalutare. Tanto è vero, questa è da prendere realmente con le molle, concordo pienamente con te, anche perché ritornando dalle cosiddette feste, vedere un attimino fisicamente come stanno i giocatori, e in ogni caso, sulla carta aver già vinto tutto in teoria, questo è un viatico che bisogna stare attenti, perché in molti, sì vabbè vinciamo 3-0, vinciamo 4-0, con la Dispoli abbiamo già vinto 4-1 là, non è detto, cioè le partite vanno giocate, non sottovalutate come dici tu, ma soprattutto ci vuole una grinta da lupi, lupi. Che spesso questa squadra non ha mostrato, diciamola tutta, ti vorrei chiedere, tu hai detto che sei stato spettatore dell'Avellino dall'inizio del campionato, non hai mai mollato il colpo da tifoso vero, quale sei, qual è il tuo giudizio su questa squadra, e qual è il giudizio sulle prestazioni che hai visto fino a questo momento? Ti dico, la verità è questa, noi a livello diciamo casalingo, qualche buca l'abbiamo preso ovviamente, ma l'approccio mentale è soprattutto mancato in trasferta, come ben sappiamo 3-4 gol, cambio di allenatore, ora con buca non è 4-3-3, però pure abbiamo preso la nostra condonata, del 2-0 fuori casa, ti dico, da spettatore mi diverto a vedere l'Avellino, soprattutto quando in casa spinge sull'acceleratore, mette la punta in più, su questo Bucaro con i giovani lavora benissimo, quindi la scelta dovrebbe essere, spero, sicuramente positiva. Il problema reale, come tu giustamente prima segnalavi, è che l'Avellino ha questi voti di memoria, questa situazione soprattutto in difesa, che prende sempre cool, quindi questo non è che ci porta a buone notizie, allora io sto predicando, anche su Facebook, sulle mie linee continue e quant'altro, dico, ci vuole un portiere under, così ci permette di giocare con l'over, però lo stiamo dicendo da inizio campionato, senza nulla togliere a Lago Marzini, non ti puoi pensare, buon pizzillo, vabbè, mettiamolo a parte per il momento, mettendo il giocatore tu in porta under, tu recuperi realmente un forte giocatore all'attacco, perlomeno questo è il minimo indispensabile. E allora mi dai là per parlare di mercato, per parlare degli argomenti scottanti di queste giornate, perché poi ci concentreremo sulla giornata e su tutto il resto, però giustamente introducevi un argomento importante. Andiamo a vedere con l'aiuto della grafica, prima qual è la formazione che abbiamo ipotizzato, perché si lega a doppio filo con quello che tu dicevi, la scelta del portiere under. Come sappiamo, insomma, Buccaro l'ha fatto capire e poi lo sentiremo, lui spera di avere una pedina forte tra i pali under, proprio per potersi giocare poi una pedina over al centro del campo, dunque questa potrebbe essere l'occasione buona per Longobardi, che è un giovanissimo, però un portiere che diceva, l'allenatore sa stare tra i pali, mi potrebbe dare una qualche sicurezza. In difesa la linea 4 dovrebbe essere formata da Eddy con Patrignani pronto a subentrare, Dionisi e Dondoni coppia centrale, Parisi scelta obbligata sulla sinistra. A centrocampo Buono di Paolo Antonio e Matute di Paolo Antonio, ancora una volta confermato nel ruolo di regista, nel quale si è trovato decisamente a suo agio. Da Dalt funzionale al 4-3-3 di Giovanni Buccaro, Ciotola e Devena con qualcosa che potrebbe cambiare, se poi Buccaro dovesse scegliere di schierare Lago Marsini tra i pali, a quel punto sarebbe sacrificato Ciotola per Tompte. Altra nota da sottolineare in questa giornata di campionato, Carbonelli non è stato convocato, è fermo per l'infortunio muscolare, non ha recuperato, come sapete Tribuzzi e Pizzella sono fermati dal giudice sportivo, c'è stato il ricorso dell'Avellino accettato parzialmente, la squalifica di Tribuzzi è stata ridotta di una giornata, quella di Pizzella doveva prolungarsi fino al 30 di gennaio, è stata ridotta a tre giornate. Questo è il quadro che noi abbiamo sintetizzato. Vedendo questo quadro, sinceramente, io penso che fondamentalmente il fatto che si firma Morero non è una cosa tanto positiva, perché la difesa già non è il nostro punto forte. Poi se ci togli pure Morero, cosa che devo vedere prima, realmente sembrerebbe questo, e poi magari Tompte al posto di Ciotola forse per dare una spinta in più, e quindi una mano pura devina, per poi far subentrare il nostro tagliacolo e sforzini, magari questo sono realmente concordo con ti. Al centrocampo di Paolo Antonio ormai da regista sta a posto, nessuno lo muove, ovviamente anziché Gerbaudo, quindi ci spingiamo troppo poi in alto, quindi è meglio tenere bassa la squadra con Buono, con lo stesso Matute. Il problema qual è? Che noi dobbiamo fare la partita, quindi vuoi o non vuoi dobbiamo sfruttare le fasce. Con questo 4-3-3, forza beh, Ciotola, che comunque in ogni caso può fare la sua parte per la situazione del partiere, io direi, sono ben fiducioso, anche perché, se vogliamo dirla tutta, questa gara, che sembra tra parentesi facile, ci porta poi allo scontro, io dico diretto, poi tu mi dirai la tua, con l'Alba Longa, che noi non dimentichiamo, c'è il Latte Dulce a 37, le 2 a 41, però noi siamo ancora alla pari con Monterosi e Alba Longa 34, quindi ciò significa che se questa gara, come noi speriamo, va in porto e viene presa con le molle, poi magari ti dà la possibilità di andarti a giocare in casa dell'Alba Longa, realmente la cosiddetta rinascita, magari con qualche giocatore in più, cosa che si spera. E' giusto, e ci stiamo trovando perfettamente incastrati nei nostri discorsi, perché mi dai, mi fai un assist per mostrarvi una, chiamiamola piccola polemica, che ha incenato Giovanni Bucaro in conferenza stampa, in realtà lui è sempre molto educato e rispettoso, quindi una polemica non è stata, noi giornalisti che siamo un po' maliziosi, l'abbiamo letta così, sentiamo cosa ha detto Bucaro sul mercato. Sì, in questo momento sì, dobbiamo migliorare la qualità anche under in porta, e quindi per noi, oggi come oggi, è un obiettivo primario, che dobbiamo fare al più presto, come ho detto prima, purtroppo sembrava quasi fatta per due situazioni, ma sono saltate, però sicuramente è una priorità assoluta che dobbiamo prima possibile aggiustare. Sì, ma ho letto che voi avete fatto anche due nomi, erano usciti prima portiere, sì, diciamo, erano due con cui magari c'era una trattativa, e poi sono saltate per motivi X, sì. I motivi X, dice Giovanni Bucaro, il portiere under che tutti abbiamo invocato, noi di Sport Channel ve l'avevamo rivelato, insomma un po' in anteprima con il nostro Alfonso D'Acerno, era Mirko Bizzi, portiere del Como, il Como poi ha rivelato con un chiarissimo messaggio Facebook che il portiere resterà lì fino a fine stagione, non sappiamo esattamente quali siano questi motivi X, lo possiamo immaginare, sono probabilmente legate a quello che sta succedendo anche in casa Sidigas, il direttore Carlo Musa però a quanto pare sta facendo il suo lavoro, sta testando una buona rete di contatti, sta cercando di fare il possibile, poi però probabilmente manca quel passo finale. Guarda, io ti dico la mia, sinceramente queste situazioni qua sono legate ovviamente al fatto che se qualcuno ti chiama nella Liga Basket a conferire, a segnalare il motivo, il perché realmente l'Avellino Calcio, in questo caso la Sidigas e il nostro Gian D'Andrea, come mai sta passando questo momento? Questo che significa? Sicuramente non è una cosa positiva, se tu ti presenti e giustamente alla fine del discorso il succo è questo, manca la disponibilità, stiamo risolvendo, però realmente alla fine della quadra, noi come tifosi, voi come spettatori, o comunque in ogni caso come Sport Channel, non sappiamo i reali motivi, molti ci segnalano che realmente anche da via traverse, il più, diciamo, la cosa peggiore, il momento peggiore sia passato, però poi se vai a vedere le parole di Bucaro, il buon Musa si muove, aggancia i portieri, non chiude, e qua non dobbiamo girarci dietro e poi non dobbiamo nasconderci dietro al dito, cioè ci vuole il cash, bisogna andare lì e bisogna prendere i giocatori, perché noi siamo l'Avellino Calcio, molti non lo sanno, questo è Gianandrea De Cesare, sappiamo che ha conferito in Lega sul caso del tesseramento di Young, che è un cestista della Scandone, molto probabilmente il 9 di febbraio ci sarà un'altra audizione che vedrà protagonista Gianandrea De Cesare, poi si capirà qual è il destino della Scandone Basket in campionato, se avrà dei punti di penalizzazione, ci auguriamo di no, certo è che Nicola Alberani ha detto che le due cose vanno di pari passo, Sidigas è un'unica società che gestisce basket e calcio, quindi se le cose trovano degli ostacoli in casa basket, si potrebbe tutto riflettere anche sul calcio, Giosuè, quel che speriamo, come dici tu, è che il momento peggiore sia passato, è che la Befana porti dei bei doni all'Avellino e porta via, oltre che le ferie, anche i guai. Ma se tu pensi che d'altronde su questa situazione del basket, giustamente come tu segnalavi che l'Avellino calcio, vabbè, il Sidigas è unica, la polisportiva che il buon De Cesare vuole segnalare, da un lato ti dà, perché chiaramente facendo una polisportiva c'hai tutto sotto mano, sei il gestore unico, però poi se vai a perdere qualcosa perdi di qua e di là. Allora io penso, se noi ci troviamo a questo punto della stagione, a dover fare un mercato tra parentesi di riparazione, o comunque di miglioramento della rosa attuale, è inutile che noi andiamo a vedere le magagne, dobbiamo vedere realmente che forza noi d'urto abbiamo. Se noi riusciamo a prendere uno o due giocatori di un certo livello, perché i parecchi parlano della serie D, perdiamo il giocatore bravo, quello meno bravo, il discorso è quello, vogliamo fare questa serie C, cioè due giocatori almeno, o se non tre, li vogliamo portare in categoria superiore, allora quando li prendiamo, cioè dimmi tu Maria, che ormai segui i lupi come me se non più di me, quali giocatori l'anno prossimo l'Avellino Calcio potrebbe riportare nella serie C? Giustamente tu dici bisogna fare anche un lavoro in prospettiva, perché poi sarebbe, comprare giocatori che possono essere utili solamente al progetto della serie D potrebbe essere un lavoro a perdere, considerando tra l'altro che l'ipotesi del ripescaggio, al di là della vittoria sul campo che l'Avellino deve cercare e comunque dietro l'angolo. Allora, questo è il quadro generale, abbiamo toccato tutti i punti in questa prima parte, noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo e ci concentriamo sulla gara di domani. a tra poco.